Eccoci qui, wow, questa è la nostra classe. Dai, sediamoci. Wow, belle, sono molto più belle delle classi delle medie. Sì, carina, ma non c'è niente di particolarmente bello, è una scuola. Oh, uffa, perché mi sono dovuto mettere nella quarta fila e invece voi nell'ultima? Eh, mi spiace, non ci stavamo tutti qua dietro, però dai, almeno siamo abbastanza vicini. Già, ed è quello che conta. Buongiorno, ragazzi. Oh, c'è il prof, facciamo silenzio. Oh, uffa, ma dov'è la mia classe? Non c'è già nessuno nei corridoi. Arriverò tardi alla mia prima lezione. Cavolo. Oh, non trovi la tua classe? Sei in classe con me e Natascia. Oh, cielo. Se vuoi ti dico dov'è. È al secondo piano, infatti noi ci stavamo per andare. Ma non è... Oh, sì, è al secondo piano. Eh, vai pure, è lì dalla porta. Noi passiamo da un'altra parte. Ci vediamo dopo in classe. Hm, ok. Cavolo, ho dimenticato una cosa. Oh, eh, scusami. Ehi, cosa ci fai ancora nei corridoi a quest'ora? Le lezioni stanno per iniziare, certe sono già iniziate. Oh, cielo, ma chi è questo? È al lecchino? Ehm, ci stavo giusto per andare, è al secondo piano. Ma tu sei l'una, giusto? Sì. Sei in classe con me e la nostra classe non è al secondo piano. Ah, no? Ehm, Claudio e Natascia mi hanno detto che è al secondo piano. Oh, non ti fidare di quelli, sono i ragazzi popolari e super snob, soprattutto Natascia, si credono migliori di tutti. Gli hai fatto qualcosa per caso? Oh, sì, mi ha vista mentre aiutavo Claudio a raccogliere le sue cose. Ed è impazzita, ma non mi ha fatto paura, non... Cioè, vabbè. Dai, se vuoi ti accompagno in classe. Va bene, date le circostanze. Andiamo in fondo al corridoio. Andiamo. Hm, povera, è tutta oscura. Vorrei tanto farci amicizia per renderla colorata. Beh, sì, dai, tanto qui ho litigato con la mia amica, sì, potremmo fare amicizia. Hm, ma sbaglio o mancano due alunne? Mancano una certa aluna e una certa Sabrina. Hm, Sabrina, ma chi cavolo è? Ehm, sì, no, oggi non verranno, io le conosco, l'hanno detto e... Eccoci qua. Cosa? Scusi, il ritardo, professore, ma qualcuno aveva dato indicazioni falsi a luna e quel qualcuno erano Natasha e Brian. Ragazzi, è vero? Ehm, sì, in eff... No, 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 non è vero. Stanno parlando di un altro Claudio e un'altra Natasha. Non siamo... No, non siamo stati noi. Ma... Shh. Va bene. Certo, come no? Dai, sediamoci. Vicine? Ah, non ci credo che sono liberi solo quei posti, ma... Sì, se sono tutti pieni, sediamoci vicine. No, perché voglio fare amicizia con te, che sia chiaro. Tanto diventeremo amiche, me lo sento. Allora, ragazzi, raccontatemi come è andato il vostro primo giorno. È stato orribile, ho già due nemici e sono i ragazzi più popolari della scuola. Oh, mi dispiace, a te, Nana, com'è andata? Oh, a me è bene, mamma, ho fatto amicizia con un ragazzo e una ragazza, si chiamano Emma e Alexander, sono super simpatici. Bene, sono contenta, mi dispiace per te, Luna, che non sia andata bene. Ma secondo me non è andata così male, Luna, ti ho visto in compagnia di quella ragazza con i capelli rosa e di tanti altri colori. Oh, hai fatto amicizia con una ragazza tutta colorata, perché non me l'hai detto? Perché non ci ho fatto amicizia, semplicemente mi ha aiutato a trovare la mia classe, visto che Claudio e Natasha mi hanno dato indicazioni false. Poi ci siamo saluti vicini solo perché erano gli unici posti liberi. Ma non è mia amica. Non potrei mai essere amica di una tizia così colorata. Va bene, va bene, scusa. Che peccato però. Vedrai, mamma, è solo questione di tempo. Ti ho sentita! Bene, Sterini, il nostro episodio finisce qui. Lo so, è durato un po' poco, ma avevo programmato queste cose da fare nell'episodio e è durato meno del previsto. E niente, ho riprovato la classe, sì, in tavoli sono ancora un po' da sistemare. Ho dovuto farlo stamattina perché ieri sono andata a via e non ho avuto il tempo di si pestamarlo per oggi. Comunque, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo episodio, cosa c'è di Natasha e Claudio e dei suoi amici. Troverò il tempo di fare quel TikTok, vedo se oggi ho tempo, perché forse vado via ma non ne sono sicura. Iscrivetevi al canale e vi ringrazio per i 111 iscritti, adesso siamo, credo. Lasciate like, condividete il video e attivate la campanella per non perdervi nessun altro video. Ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!